L'altro giorno parlavo sull'inverno demografico che c'è oggi. Si vede che la gente non vuole avere figli, o almeno uno e niente di più. E tante, tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono. O hanno uno e niente di più, ma hanno due cani, due gatti. E sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Si fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinegare la paternità e la maternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà divenne più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e la maternità e soffre la patria, che non ha figli. E come diceva uno un po' umoristicamente, adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono dei figli, rideva, ma è la verità. Chi si farà carico di me? Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo, avere figli. La paternità e la maternità è la pienezza della vita di una persona.